Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Cioè viviamo nella stessa città da dieci anni e mio nonno, mio nonno, mio nonno, non ha ancora imparato il mio nome. Sei un maschio o una femmina? Sei un maschio o una femmina? Sei un maschio o una femmina? Aspetta, ma io sarò un maschio o una femmina? Starmy, usa idropompa! Che palle con ste battute da quattro soldi da pervertiti. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista che è Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Lotte Pokémon? Si mangiano? Vi prego, liberatevi, vi avete messo in mezzo a dei muri invisibili, io come faccio a uscire da questo posto? Ma sarò un ninja, ma non sono Gesù Cristo che faccio i miracoli. Cioè, tra tutti i poteri che potevo avere, dall'invisibilità al viaggiare nel tempo, il potere che mi hanno dato è piegare cucchiai. Piegare cucchiai. Ah, la mia palestra è sul vulcano, non c'è assolutamente nulla che potrebbe andare storto. Io mi chiedo come sia possibile che sono così conosciuto come criminale, sono un capopalestra e nessuno si è mai accorto che il capopalestra è un criminale. Davvero? Cioè, io pensavo di essere stupido, però evidentemente qua il servizio di polizia di canto è veramente di un altro livello. Ah no, cos'è sta storia che io sarei tipo ghiaccio, scusate? Ma tipo lotta a chi? Ma tipo lotta a cosa che c'ho gli Onyx? Io c'ho 140 anni, vi prego mandatemi in pensione, ho dato i miei contributi allo Stato, lo giuro. No, ma chi? Io che uso i cheat? Io, il Super 4 di tipo Drago che uso i cheat? Io non uso i cheat. Non so da dove sia venuta fuori questa diceria. Io non uso i cheat. Io. Io, ma figurati io. Ehi, ehi, qualcuno che... Cosa penso io? Ehi, ehi. Nessuno ti ha dato una caratterizzazione. Nessuno. Sei destinato ad essere la semplice controparte femminile di Rosso. Nei primi giochi nemmeno esiste... Ma, ma, ma io voglio, voglio pensare qualcosa. Leaf, accetta il tuo foto. Ehi, ciao, sono Bill. Sono un Pokémon in questo momento. Vorrei sapere anch'io che cosa penso. Stai zitto, idiota. I Pokémon non pensano niente. Sono solo strumenti per raggiungere i nostri sporchi scopi. Ma, ma, ma se ho creato il teletrasporto come faccio a non pensare... Silenzio, stupido Clifari. Vabbè. Grazie. 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 Grazie a tutti.